buongiorno a tutti benvenuti al cinquantesimo episodio del road to commander episodio speciale ritorniamo su uplink che avevo giocato solo una volta ma mi era piaciuto molto che poi a pensarci alla fine della fiera è catturare la bandiera perché deve andare dal nemico prendergli la palla da basket tornare indietro op 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 carima del jabbar canestro cioè quindi è cattura la bandiera cipiamo la cappa anche se sta sta classe fa schifo e ovviamente la mia squadra perde no sta vincendo no perde perde va bene col termico è non so se rendo conto ma che dite per festeggiare il cinquantesimo episodio eh mettiamo otto è rimasto otto perfetto ah proprio per fare i mega high score tipo tre cinquanta madonna ma l'ha distrutto figa si smadonna molto è questo cazzo di vieni qua si porta ma quello lì se lo schifo la schifezza cioè quello là ah vabbè ok andate in farmacia e li comprate sti cazzi cioè usateli ma è usati io quindi orco giuda ah la torretta fuga ripeto io con che cazzo è vabbè eccoci ah ma quello è dove dobbiamo andare ok boh almeno ti smantello figa eh la madonna non so se è around si è around dopo mi sa che cambiamo arma instant perché ripeto su black ops 2 non è che fossi tanto per la quare né con vabbè non è che fossi tanto per la quare con il cazzo è lo scudo va bene con il cecco però sicuramente lo usavo molto meglio che che questo cecchino che fa altamente schifo ok cambiamo un'altra volta arma non potevi uccidermi il secondo round dobbiamo andare a capire do cazzo è il drone e dobbiamo fare mega punti non c'è nient'altro da dire ah ma è sopra l'uplink ok intervallo va bene il mio remix di intervallo che fa cagare quindi cancellerò quella parte qua uplink via buu non so dove sia nel se sopra o sotto però non è già passato è qua l'ho ucciso I can't believe it headshot e la gente non muore minchia oh devo mettere anche a posto sta cosa perché la gente non muore ovviamente quando dico la gente dico gli altri perché io gli sparo addosso 85 caricatori cos'era qualcosa la ah fucile a pompa non me lo sono messo come dopo ci facciamo un'altra partita su deathmatch però e facciamo una partita con fucile a pompa perché io farmi trucidà dai pezzacci de merda con fucile a pompa mi sono anche rotto le balle no ma non c'era uno qua di 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 gli altri fanno i drop io faccio i drop shot poi ci sono anche i jump shot c'era uno là Ho paura che mi inculino da dietro Vaffanculo Ero da una vita che non chiamavo una ricompensa Oddio mio A parte che sto a finire i golpi E quindi Non è una bella cosa Madonna mia Dammi un'arma Mi dia un'arma Non c'ha l'arma Vabbè Qua qua no Dammi l'arma Cos'è La K No il ballo Oh Dove sono Me ne manca una Oh Do cazzo sono Oh ma c'è ancora gente L'hai ucciso Palla 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 Figlio di puttana Eccolo la Lo stronzo Bastardo E adesso la metto qua Poi vado via Mi metto qua Ma cuccio E spacco il buccio di culo a tutti Assist Perfetto Non ucciderò nessuno Perfetto In tempo record Oserei dire E ho perso un po' di vista Il gioco Cioè Quello che bisognava fare Perché Perché sto a morì Perché era da un po' Che non si giocava Sta Sta modality E voi morì Bello asso calcio Figa Bello le sfide Poi in questi giorni Sto optando Di fare un acquisto Intorno a settembre Se mi sbaglio Che Se mai Boh Guarderò Perché Hanno annunciato Non so se è l'ultima Non lo so Non credo Espansione di Destiny Il Il re dei corrotti No del genere Sto facendo Ginocchio bang E Uscirà Destiny Il re dei corrotti Se non erro E' tipo una roba Una Uscirà una versione Una sottospecie di Come si dice Gioco dell'anno Ovvero Il gioco con l'ultima Espansione E addirittura Tutte le altre Espansioni uscite Quindi gioco Prima espansione Seconda Non so se Se sia stata la terza Tutti gli altri DLC E poi Do cazzo Era l'applink Di quella E' anche L'ultima Che hanno annunciato Le tre Tutto in un unico Pacchetto Tanto abbiamo anche vinto Quindi Meglio di così Non si può Vediamo quanto abbiamo fatto 11-13 Neanche male E Fiamo un'altra partita Però su Deathmatch Ci vediamo tra poco Iceman Fuga Bro Ah no Tuga Attenzione Attenzione In questa ultima Seconda partita Del cinquantismo Episodio Sono insieme Ad un gruppo Di tre personaggi Buffi Che fanno parte Di un clan Il clan più forte Dell'intero universo E perderemo Brutalmente Sicuro Però spero di no Perché E' stata votata La maggioranza Unanime Questa mappa Ancora quella Venga Lo so Fuga Perché sei tornato indietro Tipo buffo Ecco perché Tornato indietro Porca miseria Eh ma Sono appena Sono Vabbè C'è Oh la lao Tiratore al volo L'ho preso addirittura Al volo Mamma mia Mamma mia Che uccisione Ma che cazzo D'arma è questa L'ebreo Ah vabbè Cazzo al silenziatore Quindi cambia totalmente Però Lo tengo su Silenziato Senza mirare dai Così almeno Sblocco il calcio Perché se mi bravo Adesso ho il calcio Anteriore Boh Cosa del genere Voglio sbloccare il calcio E almeno Giochiamo a FIFA 16 Moh Ah 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 Agi gabito Agi N'ha già gabito Vabbè Porco giuda Schifo Andiamo di qua E ho sbagliato posto Bisogna andare dall'altra parte Perfetto Sbada ba Mfete Cos'era quello là Cos'era quello là Ah si per forza E muoio Sti cowboy di merda Va bene Va bene Oh Avevo visto qualcuno Però No le doppie Quanti cazzo ci sono Di là col cappello Figa Hanno scelto la lobby Cappello La lobby Kung Lao Vabbè Guarda tutti col cappellino Eh E che v'ho detto Sono col gruppo E sto a perdere No stiamo a vince Stiamo vincendo No stiamo perdendo Eh no perché eravamo segnati sopra I misteri della fede Oh No Perché nemmeno manca uno sdraiato Uno da sdraiato Porca puttana Mi manca un uccisione Da sdraiato Quindi andiamoci a mettere In una posizione Camperogena Così possiamo fa I buci di culo Tipo qua No No era dall'altra parte Però anche qua eh Lassa fa Che anche qua non scherza Vaffanculo Le figure di Vedete che fa schifo Fa schifo sto gioco Fa schifo sto salto Di merda Si sbaglia sempre a parlare Perché il gioco E' anche divertente E' anche bello Ma quel salto lì Fa cagare E' una puttanata Venite Dai che me ne manca una E dov'è la sfida? E me ne manca ancora una Quante dovevo fare? Oh la avevo già fa No non credo Venga Ma ho ucciso Nella porta Non è giusto Porta Con silica Siliconao Quanto Ma Tacci Sti cowboy figli Di buona donna eh Madonna Dove? Ma sei con me? Ma sei con me? E vabbè però Fimabu Per fortuna che dopo Per un po' Ragazzi vi dico subito Non registro Le puntate Del Road to commander Perché ne ho già pronte Non dico una ventina Ma quasi Davvero non dico una ventina Ma quasi Ma quasi Addeo Qui almeno me faccio una Una disintossicazione Da sti figli di puttana Di bug Sbagli di merda Che venisse Il cagotto A forza di manzare Le carote Minchie E cambia sto cazzo Non sto caricatore Cambia sto cazzo Understand Understand Oh La gente mi uccide La gente è pezza De merda Oh Faremo una figura Barbina Ne Ma perché la O che l'avevo Già fatta La La sfida Da Sdraiato O se no Erano di più Salvador Vendicatore Oh Doppia Non mi muovo Ah ma era lì Ma vaffanculo E io che Che se salto Sopra Sopra Al co Come un Cazzo De bugs Bunny C'è una roba Fuori Dal co C'è una roba Fuori Oh Dio Che non sta Mai fermi Ok Spero che comunque Questo episodio Vi sia piaciuto Cinquantesimo episodio Non sapevo come Diciamo Architettarlo Per far uscire Un episodio speciale Però vabbè Vediamo Sto uccisione Di merda Per lo meno Ho ucciso Quello la col cappello E ci godo E che avevo detto 12 Ah ma no Fermi Ero io col Gruppo Cos'è sta putt Alla prossima Ma Alla prossima Alla prossima